ciao amica ciao amico mi chiamo marcello faccio questi video perché sono un appassionato di moto se anche tu come me lo sei iscriviti al canale e attiva la campanella perché pubblico un video al giorno e ti ringrazio oggi ti parlo di suzuki dr 600s del 1985 prima di partire però saluto l'amico warner che ha contribuito attivamente allo sviluppo del canale ed è un meccanico d'auto che ha ristorato malaguti mrx 50 del 1989 la sua officina di riparazione auto si chiama um auto service si trova in via san michele 15 a briccherasio briccherasio scusa torino quindi per un contatto immediato il numero di telefono è 338 22 39 795 perché c'è uno sconto del 10 per cento su chi si presenta con il nome cocco o comunque attribuisce la sua telefonata al canale quindi 10 per cento di sconto poi qui sotto in descrizione trovi naturalmente il telefono ma andiamo avanti l'amico ulisse che saluto mi ha chiesto di parlare appunto di questa della suzuki in generale di rs 100 che è stata introdotta nel 1985 e in produzione fino al 1989 in questa versione s di cui ho trovato i dati quindi a questo punto vediamola in questa bella immagine e partiamo dal motore monocilindico 4 tempi la distribuzione mono albero quattro valvo la cilindrata esattamente di 589 cm3 il motore poi alimentato da un carburatore della micuni denominato vm 38 ss quindi col diffusore da 38 mm di raffreddamento e ad aria quindi una moto direi spartana che aveva poi l'avviamento a pedivella un poi è stato poi modificato eccetera però all'inizio solo a pedivella quindi stavo dicendo l'affreddamento aria potenza massima di 45 cavalli 6.750 giro al minuto la coppia massima invece di 42,2 newton metro a 5.750 giro al minuto il telaio in tubi d'acciaio tondi lo vediamo qui bene nell'immagine mentre la forcella insomma telescopica con la qui vediamo meglio telescopica a perno avanzato agli steli da 39 mm di diametro l'escursione ampia della ruota di 240 mm quindi una moto più pensata appunto per il fuoristrada piuttosto che per la strada anche se appunto utilizzabile naturalmente anche su percorsi stradali infatti la caratterizza ad esempio il grande serbatoio dopo il tema di generose dimensioni il paracoppa quindi tipicamente in stile fuoristradistico poi c'è anche una sul posteriore una bella borsa per gli attrezzi almeno in questa foto la sella poi alta 740 mm da terra tossomata non altissima posteriore poi siamo in presenza del forcellone oscillante in acciaio a sezione quadrata col monamortizzatore regolabile su 5 posizioni di precarico della molla un'escursione della ruota di 220 mm per quanto riguarda l'impianto frenante siamo in presenza all'anteriore di un disco da 240 mm con la pinza flottante a singolo pistoncino mentre per il freno posteriore è presente ancora il tamburo camma semplice da 330 mm le ruote sono naturalmente a raggi con cerchi in lega leggera sono da 21 pollici l'anteriore e 17 al posteriore il serbatoio una generosa capacità di 21 litri e il peso dichiarato al secco della casa costruttrice di 142 kg se ti è piaciuto il video metti like se non ti è piaciuto metti dislike ma iscriviti al canale e attiva la campanella per due motivi primo è gratis non ti costa nulla ma contribuisce naturalmente a diffusione del canale e ti ringrazio per questo secondo faccio un video al giorno quindi se sempre aggiornato aggiornato sui nuovi contenuti qui sotto i tuoi commenti sono sempre graditi ciao grazie mille e buona serata